Ciao, mi chiamo Jessica Scuola e questa è la mia esperienza E' troppe cose da dire Mi sono iscritto a un corso con Giorgio per uscire dalla mia zona di comfort Perché ho già delle esperienze di flair ma allenandomi sempre da sola e sempre le stesse routine Avevo bisogno di qualcuno che aumentassi a avere un metodo di allenamento e a diversificare quelle che erano le mie ultime prima Esco da questo corso con tante idee, con una testa diversa, con la voglia di allenare Il consiglio che mi sento di dire è una ragazza che vuole iniziare e comunque vorrebbe fare flair E' quello di avere tanta pazienza, di allenarsi tanto e di non abbattersi perché ci arrivano tutti, prima o poi ci arrivano tutti Grazie